musica ho subito ingiurie banne minacce ma nonostante tutto io vado dritto a cazzo duro per la mia strada ed è proprio qui ho un'ultima domanda da farvi c'è qualcun altro matteo case è tornato bonus oh un quadro matteo case è stato ferito in guerra ma mi tocca essere tornerò più a cazzo duro più di prima vado non si molla un cazzo mi bannano su twitch vado su youtube mi bannano su youtube vado su periscope mi bannano su periscope vado su youtube morse mi bannano aiutate vado su chat porco di dio non me frega il cazzo dritti da cazzo mannate po' la madonna non me frega il cazzo porco di dio Grazie a tutti